amici ventini di toplanet e paolo bruschi da sansepolcro grande vittoria empoli fortissimi però molto sciuponi nel primo tempo si poteva chiudere prima la partita comunque va bene lo stesso forse allegri ha trovato la quadra a centro campo con hernanes sono veramente felice spero di essere più allegro di altri giorni sono allegro come allegri e come tutti gli eventini speriamo di continuare così speriamo che recuperi marchisio al più presto comunque per adesso sembra che non ce ne sia bisogno anche se credo che questo centrocampo con marchisio migliora ancora meglio iguaino è fenomenale di bala fenomenale piaca fenomenale pianici fenomenale e anche hernanes e anche hernanes fenomenale da sansepolcro paolo bruschi un grande saluto ciao e forza juve ciao